Il progetto più rilevante, fra l'altro, è il progetto di riconversione più importante che c'è certamente in Europa ed è situato a Porto Torres dove Polimeri Europa e dunque Eni ha costituito una joint venture paritetica con Novamont. Questa joint venture si chiama Matrica e Matrica situirà nel sito chimico di Porto Torres la prima bioraffineria integrata con il territorio dove partendo dalla cultura del cardo verranno prodotti bioplastiche, materie prime e intermedi chimici che utilizzando la cultura del cardo permetteranno di produrre bioplastiche dalle quali si potranno ricavare tutta una serie di prodotti finiti come ad esempio le buste della spesa che oggi vengono utilizzate dalla grande distribuzione. Queste buste della spesa sono biodegradabili e compostabili e possono essere utilizzate come contenitore per la frazione organica che poi viene mandata in piante di compostaggio per la produzione di compost.